Per la maggior parte dei Lombardi agricoltura farima con cibo è quanto emerge da un'indagine condotta dall'Istituto di ricerca ISPO resa nota questa mattina al Pirellone di Milano durante la presentazione della campagna pubblicitaria sul programma di sviluppo rurale di Regione Lombardia. I Lombardi percepiscono l'agricoltura come una cosa molto importante, come uno dei fattori di punta anche per il nostro sviluppo economico ma sanno non abbastanza della eccellenza della Lombardia, cioè grossomodo metà dei Lombardi non sa che siamo la prima regione per tanti aspetti dell'agricoltura. Secondo questa ricerca 8 Lombardi su 10 ritengono l'agricoltura un settore strategico su cui investire per il rilancio della regione sia a livello occupazionale che ambientale turistico. Il cibo è legato molto alla percezione dell'agricoltura da quando c'è questa voglia di cibo genuino, locale, sicuro. La prima cosa che la gente chiede per il cibo è la sicurezza e l'idea che sia Lombardo, c'è il proprio territorio, dà sicurezza. Attraverso questa campagna informativa la regione vuole avvicinare in Lombardia l'agricoltura del territorio che vale a livello nazionale oltre 40% nel settore dei suini, del latte e del riso e vanta un numero elevato di eccellenze. Abbiamo il maggior numero di prodotti a denominazione d'origine, abbiamo più di 240 prodotti agricoli tradizionali, questo non è conosciuto, non è patrimonio comune, naturalmente se il settore non è conosciuto viene anche sottovalutato e quando si fanno le scelte di carattere economico finisce per essere anche penalizzato.